Nel pullet del girone di Champions League, Sire che si concentra alla partita di domenica contro Rivivre Milano al Palabarton e stasera ne parleremo e ne riparleremo durante la piazzetta con Giancarlo Pacini in onda alle 21 su questa rete. Intanto andiamo a vederci come è maturata questa vittoria in Francia. La Sire ha fatto a pieno il suo dovere, la squadra di Bernardi era impegnata in Champions League a tour sul parquet dei francesi e ha vinto 3-1 conquistando la leadership della Poulouse del girone. Come accade da un po' di tempo a questa parte non è stata una grande Sire che però in campo riesce sempre a far prevalere il talento dei suoi campioni. Leon metterà a referto 26 punti contro i 19 di Atanasevic. A differenza del match di Sora la squadra perugina ha avuto un buon approccio al match che gli ha permesso di chiudere il primo set 25-19. Nel secondo parziale però i Block Devils hanno commesso qualche volta che errore e i francesi ne hanno approfittato nel terzo parziale. La squadra di Bernardi ha avuto un po' drascano in super, ben 4 i muri del centrale Block Devils che si riportano in vantaggio e devono tenere alta la guardia anche nel quarto parziale dove ci vuole un grande Leon nel finale per prevalere ai vantaggi ben 4 i punti consecutivi dell'asso cubano. Nota di cronaca l'esordio di Nicolas Hogg che ha giocato dal primo minuto e disputato tutto il primo set. Domenica si torna a giocare in Superlega in casa contro Milano.